salve a tutti gente e benvenuti nel mio canale youtube oggi andremo ad effettuare insieme l'unboxing del mio nuovo hard disk da 3,5 pollici interno dell'intenso da 2 terabyte allora è un hard disk con una porta sata 3 7200 rpm al minuto e 64 megabyte di cache e allora l'hard disk ha un rapporto qualità prezzo a mio parere ottimo l'ho pagato se non ricordo male 83 euro su amazon lascerò sotto nel video nella descrizione del video il link per poterlo acquistare ma andiamo ad effettuare insieme l'unboxing andiamo innanzitutto ad aprire la scatola togliamo il sigillo che ci sta qua sopra un attimo mi allontano dalla cam tolto il sigillo possiamo aprire il box che contiene il nostro hard disk allora estraiamolo fuori tramite questi due grossi buchi tiriamo fuori e troviamo una scatola con dentro tutto il nostro materiale apriamo ovviamente anche questa scatola piano e possiamo trovare innanzitutto le viti molto comode le danno insieme alla confezione le viti per fissare il nostro hard disk al case del computer una brochure del dell'intenso dove pubblicizzano le loro power bank per smartphone e tablet troviamo il manuale di istruzioni le istruzioni per l'uso ovviamente in varie lingue un altro libricino con product information quindi le informazioni sul prodotto e poi abbiamo il nostro vero e proprio hard disk è dentro questa confezione antistatica adesso io a dire il vero preferisco non aprirlo adesso ma vorrei aprirlo quando sarà il momento di montarlo onde evitare danni al disco rigido perché appunto come sappiamo gli hard disk sono periferiche davvero molto 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 delicate quindi vorrei evitare magari di rovinarlo prima del montaggio quindi direi che per oggi vi saluto qui se il video e l'unboxing vi sono piaciuti potete benissimo lasciare un mi piace condividete il video e mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube ragazzi per oggi è tutto